Tu sei sulla prima linea del Donbass, comunque i carri armati russi stanno arrivando, stanno macinando. Perché quello che abbiamo visto in questi tre mesi di guerra è che nessuna iniziativa diplomatica ha mai fermato o rallentato quello che succede sul campo e in questo momento quello che succede sul campo è che i russi stanno dominando nel Donbass, stanno avanzando, stanno rubando chilometri di territorio agli ucraini stanno dando una prova che è molto differente rispetto a quelle umilianti dei mesi scorsi a Kiev e a Kharkiv. Certo, scusami, e questa avanzata russa avviene, ecco lo possiamo anche vedere, a suon di carri armati addirittura questi con la bandiera sovietica, con la ex bandiera sovietica, la falce e il martello. Sì, quella è la bandiera sovietica della vittoria per celebrare la vittoria contro il nazifascismo che loro ovviamente hanno ritirato fuori in modo simbolico per dire, vedete, stiamo di nuovo combattendo contro il nazifascismo. E tu dici, diciamo, quella resistenza contro i tank russi, quella resistenza fatta anche e soprattutto di missili terra-terra, i famosi javelin, eccetera, sì funzionava all'inizio, adesso i russi hanno capito come, diciamo, aggirarla. Bene, il problema è che i russi hanno cominciato questa guerra da quattro direttrici, Kiev, Kharkiv, il Sud, il Donbass, insomma hanno diluito la loro potenza di fuoco. Adesso hanno deciso di concentrarla tutta in un punto solo, come con una lente di ingrandimento. E per gli ucraini è difficile resistere a questa potenza di fuoco concentrata tutta in un punto solo. Stiamo parlando di un fronte che è di poche decine di chilometri. E gli effetti si vedono, stanno sfondando. Tu dove sei esattamente? Insomma, esattamente. Io in questo momento sono a Kharkiv, dove c'è stata una brutta sorpresa, nel senso che era quasi un mese che non c'erano bombardamenti in centro città, invece oggi sono di nuovo arrivati dei colpi in centro e che non hanno un significato dal punto di vista strategico, se non quello di incutere comunque agli ucraini una paura, quella di, diciamo, di tormentarli, di punirli, di far sentire che non hanno ancora vinto nulla, che c'è sempre, che la partita è ancora aperta. Ma sono morte anche delle persone stamattina da questi bombardamenti? Sì, sì, sono morti. Il bilancio non è ancora preciso, ma per ora ci sono cinque morti e decine di feriti. Anche perché, diciamo, la gente ormai in città era abbastanza tranquilla, si stava lentamente abituando al ritondo alla normalità e invece adesso è tutto in discussione.